ciao a tutti bentornati o benvenuti cari ascoltatori e video ascoltatori di rock and wow siete nella sezione explosion of rock il contest dedicato alle band italiane e che band davvero pazzesche come potete leggere qui nei sottotitoli stanno arrivando i sound on e sapete da dove dall'altissimo piemonte anzi direi dalla punta estrema del piemonte ciao ragazzi e benvenuti come state bene bene grazie allora noi siamo i sound on e nasciamo ad agosto del 2018 da un'idea di luca e tia mi hanno chiesto di essere la loro cantante ci siamo uniti inizialmente avevamo un altro bassista ma a novembre ottobre novembre del 2018 si è aggiunta viola la nostra fantastica bassista e abbiamo iniziato come cover band perché non avevamo ancora creato delle nostre canzoni ma ora abbiamo diciamo buon reperatore abbiamo sei canzoni per adesso e abbiamo suonato nella zona da dove veniamo quindi domodossola piemonte e non vediamo l'ora di suonare anche in tutto il resto d'italia bene avete delle aspettative veramente veramente importanti bellissimo racconto bellissima storia breve siete giovanissimi e vi faccio i complimenti perché da giovani già avete sfornato un brano veramente eccezionale che fra poco ci farete ascoltare ma non adesso perché prima mi dovete dire ad un ad uno attenzione ad un ad uno per quale motivo vi dovranno votare perché state cercando il like perché io o altri dovranno dire ok sound on vanno in finale ricordiamo che le finale si giocherà tra virgolette al crazy bull di genova il 21 maggio 2022 covid permettendo attenzione allora cominciamo subito da luca che è stato silenzioso dimmi perché devono votare voi allora secondo me devono votarci perché noi siamo una band giovane con tanta voglia di divertirsi tanta voglia di condividere la nostra musica e abbiamo tante cose da dire con la nostra musica e non vediamo l'ora di avere semplicemente l'occasione di poter comunicare quello che il nostro divertimento e la nostra passione per la musica benissimo e passiamo la parola a viola ci sei viola sì ci sono il basso no qual è il motivo per cui la gente deve votare il tuo basso può dare una motivazione valida allora secondo me devono votarci perché noi vogliamo dimostrare che comunque il rock roll è ancora vivo e anche noi giovani vogliamo portarlo avanti e dimostrare infatti che sarà sempre vivo un bellissimo messaggio già solo per questo motivo il like te lo prendi e adesso vediamo le motivazioni di mattia mattia tu silenzioso la in fondo vediamo cosa è da dire beh ormai i miei compagni hanno già detto tutto ma siamo giovani affamati e vogliamo che la musica arrivi al mondo intero ea più persone possibili un altro bellissimo messaggio già sono a due like bene due like non siete in finale bene avete guadagnato così poco invito vi do vedo già pronti la in alto luca e nicole con chitarra in microfono vi invito a far ascoltare un pezzettino del brano il bene in questione chi me la presenta di voi il brano in questione si intitola 21 hours brava e quando si andiamo 3 2 1 musica maestri non è il brano in questione si intitola 21 hours brava e quando si andiamo a fare un po' di un brano che ti entra subito in testa complimenti bravissimi anche due muti complimenti è il momento di salutare i vostri fan mai a 1 a 1 se no se ci intrecciamo qua non si capisce niente quindi luca e nicole vai salutate mi raccomando votateci ciao votateci mattina chitarrista ciao ragazzi un like presta un don grande da arc anche a me la parola ogni tanto dark è tutto da rock and wow è tutto sempre e comunque 6 rock ragazzi un abbraccione alla prossima e auguri per il contest ciao 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 Now look at me, am I showing too much positivity? Now look at me, now look at you Are you feelin' what I'm feelin'? Do you need to be good? We just can't hurt any more Let's end this dangerous storm